. Valeria Marini e Francesca Cipriani, nemiche amiche sull'Isola dei Famosi Valeria Marini e Francesca Cipriani, dunque, sono obbligate alla convivenza stretta sull'Isola dei Famosi. . Dopo lo sbarco della prosperosa showgirl. L'altra prosperosissima showgirl non sta a guardare. E cerca di ritagliarsi un ruolo. . Quello di antagonista di Valeria Marini. Anche perché tra le due, in passato, sono già state scintillei. . Questione di uomini il fatto è che nel passato di Valeria Marini e di Francesca Cipriani c'è lo stesso uomo. . Uno dei tanti fidanzati che, entrambe, hanno avuto è quel Giovanni Cottone ora finito nei guai. . Per la Marini è stato addirittura un marito, per la Cipriani un flirt e, c'era da scommetterlo, questo passato in comune, ha già creato i primi attriti sull'Isola dei Famosi e . . Nemiche amiche tuttavia, in questi primi giorni di Isola dei Famosi, Valeria Marini e Francesca Cipriani hanno fatto buon viso a cattivo gioco. . Un po' perché Valeria è appena sbarcata, un po' perché Francesca rischia l'eliminazione. Fatto sta che alternano momenti di tensione a momenti in cui si tendono la mano e sotterrano l'ascia da guerra. Tutto secondo copione, insomma. . In attesa di sviluppi. . 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 Grazie a tutti.